Bene, è interessante osservare che in Italia c'è il meeting. Meeting vuol dire che ci incontriamo. Qui abbiamo appena vissuto a un livello più piccolo, però molto significativo, anche un incontro. La mia esperienza è stata precisamente questa, incontrare persone che vogliono, che stanno ricercando qualche cosa. L'esperienza che ho vissuto io e che ho potuto osservare sia a Rimini che a Nova York è che questa ricerca di qualche cosa è molto profonda. Il fatto di incontrarsi ci permette di andare più in là. Non solamente di dire che ricerchiamo qualche cosa, ma di incontrare qualcuno. Il qualcuno che incontro è la persona, le persone, il numero di persone che ho potuto incontrare. Però ognuna viene con un testimonio, un testimonio di una vita già incontrata. Penso che tutte queste persone hanno già dato un certo senso alla loro vita e il senso, la direzione, l'hanno ricevuta da qualcuno. Sono stato colpito, per esempio, alcuni giorni fa da numerosi incontri dove ho visto come le persone sono già state cambiate dall'incontro con Dio, con Cristo, con una comunità di testimoni. Penso che sia a Rimini che a Nova York è questa esperienza. L'esperienza è una esperienza fondamentale. Un giorno mi sono sentito mirato, ho incontrato una persona che mi ama. E questo mi ha fatto nascere in me il desiderio di amare come questa persona ama e mi rendo conto con l'esperienza che è questo che cambia la nostra storia. Cambia la mia storia personale, però può anche cambiare la storia dell'umanità. Ojalá il mondo sia trasformato da questa presenza di persone che amano perché sono amate.